il fanta basket il fanta basket fin da quando petrucci l'ha inventato è sempre stato contemporaneamente sia la cosa migliore che anche quella peggiore di tutti i nostri weekend e questo è il motivo per il quale tutti l'anni noi ci ripromettiamo di non partecipare cioè quest'anno lo fa ma il prossimo anno davvero e poi invece siamo qua come tutti l'anni quest'anno addirittura all'ultimo tuffo nel senso che il campionato di serie a inizia stasera e noi siamo qui con i video con i miei consigli con la mia formazione con le mie dritte un attimo per fare una roba si si ripete si rinnova la collaborazione come ogni anno con i ragazzi di dunkest che saluto e qui potete trovare scritto qui sotto in descrizione se me lo ricordo anche in sovraimpressione i codice per entrare a far parte di campionato il torneo ufficiale di campo aperto su dunkest il codice è 9 6 6 6 che è tutto un programma 2 a 4 f 9 6 6 6 l'ho scritto lì 2 a 4 f potete entrare scrivete la vostra squadra tutte le settimane durante il pacellone verranno riconosciuti verranno premiati nominati pubblicati il vincitore di giornata e soprattutto la testa della classifica i primi tre della testa della classifica come dicevo prima che la webcam l'anno scorso eravamo uno dei tornei forse il torneo più grande in assoluto di tutta la versante serie a di dunkest quindi non mi deludete anche per quest'anno anche perché poi c'è sempre l'arcano e verrà svelato alla fine dell'anno l'anno scorso sono riuscito a non svelarlo l'ho fatta franca alla fine ho lasciato un po cadere il discorso non sapete se ho partecipato o meno ai campionati quest'anno penso che non riuscirò a sbrigarmela anche perché l'obiettivo è quello di portare avanti il pacellone per tutti i campionati quest'anno e quindi continueremo poi a parlarne fino fino alla fine come sempre vi ricordo che questi sono soltanto i miei consigli le mie dritte ma soprattutto vi ricordo che se c'è una cosa una che ho capito in tutti questi anni di dunkest è che è impossibile fare la formazione oggi alla prima giornata di campionato e spera di vincere è proprio impossibile bisogna stargli dietro bisogna modificarla di settimana in settimana fare quei piccoli rintuzzamenti quei piccoli aggiustamenti le sostituzioni sono fondamentali quindi quello che io vi dico oggi vale per la prima giornata secondo le mie personalissime idee ovviamente è però poi cambierà nel corso della no ci siamo capiti basta si ci si trasferisce sui sito di dunkest e vi fa vedere come è proprio rapida e lesta la cosa per fare la squadra a rieccoci qua siamo tornati questo è il tabellone di tutti l'anni sapete benissimo come funziona non c'è bisogno e ve lo spieghi io queste sono tutte le valutazioni migliori giocatori del campionato secondo i redditi di dunkest quindi c'è tyler kane a 16 jaité a 15 e mezzo a 15 c'è shields e melli e poi tutti quell'altri sotto i 15 ora vi dico la mia normalmente ci sono due modi di pensare due scuole di pensiero per iniziare a formare la squadra il primo modo è quello di individuare quei due tre giocatori massimo e uno vole in tutti i modi perché è convinto che facciano la differenza e quanto costano costano li butta dentro e poi di conseguenza coi soldi che gli rimane dai 95 crediti cerca di sistemare il resto della squadra oppure l'altro sistema è quello di partire da quelli più bassi in valutazione quindi ordinamento per crescenti partire dai quattro cominciare a vedere chi può essere inserito tra questi a pochissimo prezzo e poi coi soldi che rimangono uno fa una tara e cerca di completare dipende se si vuole partire da capo o da coda dunque per quel che mi riguarda il primo procedimento secondo me è più utile con l'nba perché in nba comunque ci sono quei giocatori che comunque vada sono una sicurezza ti danno affidabilità in serie a è più difficile perché ci sono mille variabili le squadre cambiano tutti l'anni giocatori cambiano tutti l'anni bisogna vedere le rotazioni mille cose e quindi io sarei più propenso a partire dai quattro a questo giro però prima di tutto prima di tutto c'è l'allenatore perché secondo me l'allenatore è la cosa fondamentale soprattutto se si guarda giornata per giornata come io suggerisco di fare quindi ci apriamo su chi è questo qui ci apriamo subito una schermata con la lega basket e si vede subito il calendario della prima giornata le prime cose da considerare sono con chi gioca a milano e con chi gioca la virtus di bologna perché sono le due squadre più forti ora considerando che milano gioca fuori casa contro napoli nell'anticipo di stasera napoli è una neopromossa gioca in casa per la prima volta dopo tanti anni milano non è in un grandissimo momento di forma a raduce della sconfitta in super cop io andrei con la virtus anche perché trento sapete i miei dubbi che ho insomma sull'aquila in questo momento fino a che non prenderanno un playmaker e quindi io come allenatore andrei subito di sergio scariolo che tanto costa anche un pochino meno rispetto a ettore messina e intanto quegli 0 5 si sono risparmiati dopodiché come vi dicevo si deseleziona l'allenatore e io andrei proprio coi crediti crescenti cioè partendo dai più basso di tutti cercare di vedere quanti possano essere inseriti qui per poter fare un minimo anche perché ricordiamoci che i titolari pigliano il 100 per cento dei punti il sesto uomo pure quindi è importante tutti questi altri pigliano la metà quindi non vale la pena secondo me investici troppo perché pigliano poco anche se fanno tanto dunque a 4 secondo me ulaneo è da pigliare prima di tutto perché non so se si chiama ulaneo ulagno ma a 4 secondo me vale tant'è vero che ce l'hanno in tanti vedo quasi il 18 per cento di voi l'hanno preso e vabbè ora lui qui lo mette titolare capitano poi dopo si sposta di tutti quest'altri sinceramente non mi sembra che ci siano cose particolari proviamo a salire un attimo con le cifre vi sconti vi sconti importantissimo soprattutto ora perché manca west clark e soprattutto c'è lo stesso redivo è stato un po' da non dico dato ancora ma insomma offerto in prestito a tante squadre quindi per me vi sconti questa prima giornata ci avrà minutaggio e responsabilità così se bello è finito brindisi e ci si toglie il pensiero perché più di due e un si possono pigliare della stessa squadra poi andando avanti potrei fare un pensiero su mancinelli ma non ce lo fo di qua mi pare a me che si comincia a essere già un pochino alti forrai potrebbe essere buono però ragazzi 6 e 3 comunque so tanti rifacciamo un attimo un giro tiriamo un attimo a vedere se si allora lodovico de angeli lodovico de angeli è molto buono per il futuro non so quanti quanti minuti potrà avere però è vero che costa 4 io per ora la butto dentro e poi e poi e poi consideriamo che a trento vabbè che gioca contro la virtus ma gli manca jordan caroline quindi gente tipo la durner potrebbe essere interessante perché avrà dei minuti tanto ripeto questi sono tutti i panchinari e ora li mette lì ma sono tutti i panchinari gente che a noi ai momento sinceramente non ci fa non ci fa troppo la differenza vediamo vediamo io per ora andrei con questi quattro e comincerei a spostarli perché come li sposta ora no perché vedi li deve li deve spostare ruolo per ruolo quindi comincerei a spostarli intanto qua giù e mettere chiaramente no il sesto uomo ci vuole ci vuole diverso questi suoi quattro per partire poi rimettiamo i crediti crescenti e dei crescenti anzi e andiamo a vedere i sodo quelli buoni partiamo dai centri perché un centro ci sa di già i centri sono due in squadra e quindi un altro si dovrebbe trovare abbastanza bene Kane non mi garba troppo nonostante ci abbia un sacco perché c'è gel and cannon e mi fido il giusto già i te potrebbe essere buono soprattutto ora perché non ha riserva però costa caro henry sims e egbunu mi garberebbero ecpeudo chiaramente fuori non parliamo di me ho volu ma scendendo vedo che c'è sagaba il mio amico sagaba a 13 4 quindi mi consente di avere un ottimo risultato quantomeno sulla carta spendendo i giusto risparmiando un po' rispetto ai top player io per ora andrei con sagaba e to ti potrei anche lasciar titolare ti potrei anche lasciar capitano sagaba ora ora vediamo un attimo come si va con quest'altri ci sono tre ale da prendere due guardie per cui è più facile andare intanto con le guardie teodosic parte dalla panchina costa troppo non parliamo di chasho gel and harris gel and harris e qui me lo danno grigio cioè panchinaro ma secondo me no secondo me questo io questo lo piglio cioè non c'è proprio versi io questo lo butto dentro mi garberebbe anche west saunders perché comunque uno che magari tipo fa la doppia doppia ti rischia quasi la tripla doppia però costa tanto e a 13 c'ho belle due un non so un non so fammi vedere se si trova qualcun altro di meglio magari ha delle cifre un pochino più abbordabili logan non sai mai che partita gli piglia però è molto rischioso della valle non sarebbe marvagio crawford mi sembra strapagato a questo prezzo andiamo ancora un pochino più indietro oh c'è v sanford a 10 e 2 ragazzi ma v sanford potenzialmente è uno che fa le buche per terra io v sanford a 10 e 2 sinceramente lo piglio ci rimane 29 3 e bisogna prendere treale quindi ci si sposta e si cominci a fare un po un ragionamento mi sarebbe garbato tanto jordan caroline ma è rotto mitoglu mitoglu mi garberebbe mitoglu mi garberebbe però è caro vediamo se c'è qualche affare da mettere in piedi a poco prezzo ah no ma c'ho ancora le guardie selezionate vediamo se c'è qualche affare dicevo da mettere in piedi a poco prezzo alessandro gentile non mi disgarberebbe mike dome a 11 e 4 ma dominator così basso dominator a 11 e 4 va preso per forza e non mi disgarberebbe neanche michael miller perché a questo punto con miller e harris secondo me noi sai due top player di remona che ci possano far divertire con chi gioca remona questa giornata fammi vedere come come ne però ragazzi questi sono mezza squadra in due quanti sordi ci rimane ci rimane 7 e 2 e ci serve un'ala per cui andiamo a vedere quali sono i giocatori che ci si possano permettere allora di uff mi garba nella realtà ma ogni fanta basket 7 e 2 sono esagerati non parliamo di quest'altri ferrero maicinelli allora si può sfruttare lo stesso discorso che se era fatto per la durner cioè su mezzanotte il fatto che manchi jordan caroline e buttare la mezzanotte e conate dom miller harris sanford mezzanotte sesto uomo perché secondo me giocherà non ti voglio di titolare ma quasi e poi visconti de angeli ulanio e la durner li metto in ordine di crediti perché il mio disturbo ossessivo compulsivo mi necessita di questa cosa e io sinceramente oscariolo allenatore andrei con questa squadra qui ci avanza anche 0-4 vai lavori ah poi siccome tutti me lo chiedete tutti l'anni mi tocca stare a scrivere vi faccio vedere su salva e continua io qui piglio il pacchetto ruchi perché è gratuito per partecipare scegli a questo punto unisciti a un campionato e qui ci si mette vedi qui ci si mette direttamente il codice sarà detto essere 9 6 6 6 2 a 4 f unisciti e lui in automatico borda ci dovrebbe mettere vedi su campo aperto e siamo belle trentatreesimi perché ci sono già 32 squadre che non l'aveva ancora detta a nessuno non lo so comunque siamo iscritti al campionato e questo è quanto io mi auguro sinceramente che partecipiate numerosi ma soprattutto che non ci siano john elmory in agguato tra i giocatori che io ho selezionato ma chiaramente ci saranno perché è sempre a finire così e noi ci si rivede presto martedì c'è il primo pagellone sulla prima giornata di lba e giovedì dopo una vita perché questa settimana è successo di tutto si riaggiorna il gruppo di recupero su twitch